...facendo il furbo, padrino. E per me tu stai facendo il fesso. Vuoi vedere che con me non avrai il coraggio di fare il furbastro? Ammazza sette, chiamami subito Johnson al telefono. Via vol, my fear. Devo fare tutto da me. È possibile che non posso più fidarmi nemmeno di voi? Johnson è un osso duro, padrino. Con lui non caverai un ragno dal buco. Ah, un ragno forse no, ma la tangente che ci deve sicuramente sì. Mr. Johnson, mi risulta che sei in ritardo con il pagamento della tangente. Come mai non farmi in cavo?